Ciao a tutti, buongiorno, è un piacere iniziare questa giornata con la musica, che capita tutti i giorni e devo dire che dà veramente una bella carica. Allora, io sono Francesca, come ha già detto Lorenzo, social media e community specialist di CESU Special Consulting Company, che organizza il famoso John Meeting Network, ovvero il primo supporter dei giovani laureati per la ricerca attiva del lavoro, il che significa che tutto quello che facciamo ha come obiettivo quello di far trovare il lavoro dei sogni alle centinaia di ragazze e ragazze che fanno parte della community di John Meeting. Fanno i miracoli, fate i miracoli, bellissimo. Ma chissà, probabilmente sì, c'è anche un po' un pizzico di magia dietro a quello che pensiamo, probabilmente sì. Appunto, essendo io la social media e community specialist di John Meeting, che significa che ogni volta che i ragazzi e le ragazze ci scrivono, comunque interagiscono in direct con noi, dietro le risposte che diamo c'è per lo più la mia faccia e la maggior parte delle volte il mio sorriso e quello di Inchiderita che lavora con me nel team social di John Meeting. Innanzitutto, Lorenzo, grazie davvero per avermi ospitata oggi per noi. Grazie. Grazie, davvero il contatto con realtà come la vostra che si rivolgono e sono composte da giovani è davvero sempre fonte di preziose opportunità e di ispirazione. Facendo un piccolo passo indietro e rispondendo, tra l'altro, alla tua domanda, John Meeting è una delle più grandi community e network di eventi d'Italia dedicati a studenti universitari, laureanti, laureati, ma anche giovani professionisti che sono comunque alla ricerca della propria opportunità professionale. Infatti, gli eventi di John Meeting offrono lo straordinario vantaggio di entrare in contatto diretto proprio. Noi creiamo, diciamo del tutto, per creare un ponte diretto tra i ragazzi e il mondo dell'azienda. Ma comunque anche quello di vivere esperienze in momenti di incontro e soprattutto networking, essendo la nostra una community appunto, con esperti anche del mondo del lavoro per affrontare comunque, possiamo dire, congrività e ingresso in questo mondo che a volte sappiamo tutti noi essere un pochino complesso. E allora entriamo nel dettaglio dell'evento in programma per il 19, il Job Meeting Milano, Francesca. Allora, sì, oggi sono qui per parlarvi del Job Meeting Milano, che possiamo dire è il nostro evento di equitativa, che sarà giovedì il 19 ottobre al BAS Milano, che immagino conoscerete bene, dalle 9.30 alle 6.30. È un evento, in questo caso, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano ed è in collaborazione con Sealing, che è la prima platform experience dedicata al mondo del lavoro. Partiamo dall'aspetto più importante di questo evento. Allora, partecipare al Job Meeting Milano significa, comunque, appunto, come accennavo prima, entrare davvero in contatto diretto, e in questo caso con i recruiter di oltre 35 aziende che parteciperanno, di entità nazionale e multinazionale, fra le quali posso citare, ad esempio, Alma Viva, Car for Italia, Collin Saria Space, Sumune di Milano, Italia Online, Poste Italiane, Umana. E questo, come potete capire, significa che davvero saranno tanti durante l'evento i settori rappresentati e accorre di più, chiaramente, le opportunità lavorative offerte per tutti i profili di laureate e laureate, dalla consulenza, all'energia, dal digital all'information, l'elettronica, la farmaceutica, la chimica, insomma, il marketing digital. Ce n'è un po' per tutti, quindi, Francesca, 35 aziende, insomma, e, diciamo, coprono tutto l'arco del mondo del lavoro, quindi una bella opportunità per chi viene, appunto, al Job Meeting, no? Esattamente. E noi, quando diciamo ai nostri ragazzi, e ribadiamo spesso all'interno dei nostri social, che i nostri eventi, soprattutto noi facciamo eventi di tipo virtual e in presenza, in questo modo questi che ci vedono presenze nelle principali tappe d'Italia, che vedono i principali nuclei, comunque universitari d'Italia, insomma, ad esempio Milano, i nostri eventi sono per tutti, perché è davvero così, ci sono opportunità per più profili professionali. E per iscriversi come si può fare? Cioè, come funziona l'iscrizione, appunto, a questo Job Meeting di giovedì? Allora, iscriversi, tra l'altro, è davvero semplice, perché in due minuti basta andare sul sito www.jobmeeting.it.it è molto semplice in realtà, l'ho reso un po' complesso io, creando il proprio profilo e inserendo il proprio curriculum, mi raccomando, aggiornato, e registrati all'evento del Job Meeting Milano. Quindi, ripeto, il sito www.jobmeeting.it Ad ogni modo per recuperarlo basta andare sui nostri canali social dove ogni giorno pubbliciamo dettagli e comunque aggiornamenti sull'evento e quindi mi raccomando ragazzi seguiteci anche lì per non perdere tutti i vari appuntamenti. Tra l'altro la piattaforma online dell'evento è già accessibile quindi basta, vi potete già registrare e entrare all'interno della piattaforma online per vedere già quali saranno tutte le aziende presenti e i vari appuntamenti della giornata. Chiarissimo, il tempo è tirato quindi dobbiamo andare molto veloce però so che quest'anno avete un nuovo format, il futuro è Z e non parliamo della formica Z, stiamo parlando di altro in questo caso, immagino una generazione, non lo so, oppure c'è un'altra Z di cui dobbiamo sapere? Allora Z in questo caso si rifà alla generazione Z che è per lo più il target di età, la fascia di età che in questo momento si sta facciando in maniera attiva comunque alla ricerca del lavoro. E infatti come accennavi quest'anno il GeoMeet in NET e il GeoMeet in Milano torna con un format rinnovato e comunque ricco di novità appunto dal titolo Il futuro è Z, carriere, linguaggi, l'evoluzione, incentrato appunto sulle esigenze, sui dubbi che la generazione Z si pone nei confronti del lavoro, in particolar modo appunto nel momento di uscita dal percorso di laurea, dal percorso dell'università. Questo format è appunto stato creato con l'obiettivo di rispondere alle tante domande che ci vengono fatte dai giovani sui social, ogni giorno noi ne riceviamo sui nostri canali, che sono spesso chiaramente in preda comunque all'ansia, comunque ai dubbi quando si parla di un gresso in azienda. Confermo, 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 Lorenzo conferma. Ma penso che tutti noi possiamo, a prescindere dall'età, possiamo davvero confermare. Voi due siete la prova che tutto funziona, siete due gen Z quasi, siete giovanissimi entrambi e tutti stanno lavorando, quindi non potete lamentarvi voi, ecco mi raccomando. Prima hai parlato appunto di alzare di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto voi dicevi portate il curriculum e portatelo aggiornato, ma ho visto nel programma delle cose che potete fare che c'è comunque anche una sorta di check del curriculum, giusto? Come funziona? Esatto, allora, a Gior Meeting Milano chiaramente appunto il punto principale dell'evento è quello del contatto diretto con il mondo dell'azienda, ma ci sono davvero tanti momenti di formazione e formazione durante la giornata. Ad esempio, come dicevi, durante tutta la giornata, quindi dalle 9.30 alle 16.30, sarà possibile recarsi al corner CVCheck di Umana, in cui ci saranno esperti delle esperte dell'area politica attiva e area orientamento, che faranno comunque una consulenza personalizzata, quindi one to one, di allo circa 10 minuti con il curriculum dei partecipanti, quindi suggeriranno come rendere comunque più di affilio il proprio curriculum, in modo tale da presentarsi al meglio poi agli stand delle varie aziende, con un curriculum davvero super. Insomma, è un po' come quando prima di partire per le vacanze vi da il meccanico a sistemare la macchina, ma qui prima di andare a parlare con le aziende, passate a far vedere da Umana il curriculum, così siete sicuri di arrivare giusti poi ai vari 35, giusto? Diciamo 35 aziende che sono presenti all'interno del job meeting appunto di giovedì 19. È un'ottima metafora la tua. Grazie, grazie, grazie. Grazie e ve la regalo, ve la regalo così a gratis, sono molto contento che ti sia piaciuta, ma sono tantissime quindi le cose appunto da tenere in mente e magari appunto possiamo ricordare che comunque c'è un sito su cui possiamo andare a ricapitolare tutto quanto, giusto? Esattamente, www.aggiornomiti.it.it slash milano, trovate tutti i dettagli lì e soprattutto la semplice modalità con la quale iscrivervi all'evento. Iscrivetevi in massa. Iscrivetevi, gente iscrivetevi. Accorrete. Accorrete, gente accorrete. Moderno. Sì, molto moderno. Sì, diciamo, fare social, CTA, col treppi arrivo io che sembro vota Antonio, vota Antonio, vabbè, è così che funziona. Dai, Francesca, grazie mille allora, ci vediamo giovedì a questo punto, noi veniamo, te lo dico, così cerchiamo un lavoro anche a Masieri perché finiranno il licenzo, quindi devo trovare un lavoro nuovo. Va bene? Ricordiamo ancora bene l'appuntamento, Francesca, allora, dacci tutte le coordinate prima di salutarci. Allora, potete seguirci sui nostri canali social di John Meeting e lì troverete tutte le nostre informazioni, ma soprattutto potete farci davvero tutte le domande, nel caso tutte le domande che volete. Perfetto, Francesca, grazie mille per esserti collegata con noi e niente, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e speriamo che sia un bel evento, dai, sicuramente lo sarà anzi. A giovedì allora. A giovedì.